buongiorno oggi ci troviamo a bellinzona in particolare nel centro di bellinzona infatti abbiamo la sezione molto molto vicino quello che so per farvi vedere è un tre locali e mezzo ci troviamo al primo piano come potete vedere l'appartamento è veramente molto molto luminoso subito sulla destra dell'entrata troviamo la prima stanza stanza comunque molto molto spaziosa questo che vedete è l'entrata dello stavio il via letto con i parcheggi vedete anche i soffitti sono molto alti torniamo nell'atrio e vi faccio vedere la stanza matrimoniale stanza matrimoniale davvero molto molto grande e spaziosa come potete vedere dalla finestra o meglio dalle finestre c'è sempre comunque del verde siamo veramente in centro centro ma il verde non manca quello che potete vedere dietro sono le officine di bellinzona torniamo verso l'esterno vi faccio vedere il bagno bagno davvero molto ben decorato sempre con finestra bici bivet lavato specchiera vasca vasca utilizzabile anche come doccia come potete vedere da questa parte invece troviamo la sala anche questa davvero molto molto luminosa e spaziosa come vedete ovunque abbiamo abbiamo del verde torniamo verso l'atrio e sulla destra troviamo la cucina cucina abitabile anche questa molto molto spaziosa completa di ogni comport vero frigorifero con congelatore all'interno forno con piano cottura e metro ceramica cappa lavastoviglie abbiamo in casa anche la lavatrice mentre da questa parte usciamo sul terrazzo un terrazzo molto molto carino in quanto chiuso da queste bellissime vetrate che abbiamo comunque la possibilità di aprire bene bene se siete interessati a vedere questo bellissimo tre locali e mezzo centro a bell'insomma chiamateci che affitto grazie a tutti